Questa intervista vi è offerta da Campani Group e sei sulla buona strada Eccoci qua allora insieme ai Colors che oggi sono venuti a trovarci qui a Radio Bruno Belli che siete, sempre molto in forma Questo lo devo dire io però, belli che siete Belli che siete Buongiorno agli amici di Radio Bruno Bentornati, visto che non è la prima volta che compito radio aspettiamo i nostri studi Come stati intanto ragazzi? Stiamo bene, stiamo bene, stiamo facendo un po' avanti e indietro in giro per l'Italia E siamo contenti di tornare a toccare con mano quello che è il nostro mondo Proprio quello del contatto col pubblico Perché noi veniamo dal live, dal mondo dei localini E è stato fighissimo fare il disco per nove mesi in studio Rinchiusi Però ecco adesso ci serviva ritornare ad abbracciare un po' le persone che Che ci hanno dato modo di fare quello che stiamo facendo Bentornati a casa allora insomma, possiamo dire E sì abbiamo aperto con What Happened Last Night canzoni dai suoni molto internazionali Come del resto l'album EU che è uscito il 19 di maggio 12 nuove canzoni con tante collaborazioni internazionali C'è Gucci Mane e poi nell'album Daddy's Groove due ex Oasis Ragazzi è incredibile, come siete trovati con questi personaggi? Ma è nato tutto in maniera naturale Per quanto riguarda gli Oasis è successo che io avevo scritto una canzone Visto che ho pensato di produrre questo album Seguendo il concetto di playlist e non il concetto di LP Perché secondo noi ormai è finito il concetto di LP Purtroppo perché noi li ascoltiamo ancora Ma serve qualcosa che abbia più generi Perché per via delle piattaforme di streaming Che ti danno la possibilità di creare una tua playlist Tu puoi mettere tre brani di Red Hot Chili Peppers Seguiti da due di Drake I generi sono tanti nel disco You Quindi quando mi è venuta fuori questa canzone Volevo metterci il sapore Oasis, il sapore Britpop Con questa demo pensavo di cadere nell'imitazione Un pochettino di quel mondo lì E non essere tanto credibile Quindi ho chiesto a una persona del nostro management Che conosce gli Oasis Di mandare una mail giusto per avere un feedback E l'ha mandata da Andy Bell Che è il bassista degli Oasis Io faccio fatica a dire ex Oasis Perché in me esistono ancora gli Oasis E ci saranno di nuovo secondo me Comunque Andy Bell ci risponde dopo 12 minuti A quella mail Dicendo ragazzi questa roba qui è una bomba Voglio partecipare alla scrittura Alla produzione di questo brano Se vi va E noi avevamo detto sì Andy Certo che ci va Ci siamo incontrati poi a Londra Davanti a una birra in Crouchend In un pub in Crouchend E a lui è venuta l'idea di contattare anche Di sentire anche Gam Che è il chitarrista degli Oasis Per fare delle chitarre acustiche sul pezzo E alla fine lui ha mandato il pezzo Gam ha risposto Mandatemi il pezzo Vediamo se mi motiva la cosa Dopo qualche minuto ha risposto anche lui Dicendo sì Verrò domani in studio Con voi a registrare È nato proprio così E quando io Ho detto a loro Ragazzi Non vorrei offendervi con un pagamento Ma almeno un riconoscimento Dal punto di vista dei punti Da noi c'è la SIAE Vorremmo darvi dei punti Per la scrittura Comunque perché Andy Bell Ha scritto con me il testo E loro mi hanno dato una pacca sulla spalla Dicendomi ma vai tranquillo Noi abbiamo fatto questa cosa qui Perché ci piace il brano E secondo me è una roba Sono dei grandi Una grandissima soddisfazione Internazionale anche devo dire Nel video Nel senso che molti artisti Magari quando decidono Artisti italiani Quando decidono di fare un video Magari spesso pensano Non lo so Agli Stati Uniti Voi invece siete nati all'altra parte Siete nati a Tokyo È un po' Sì Lì è stata una proposta di YouNuts Che è questo collettivo di registi Sono due registi Che secondo noi Sono veramente fortissimi E secondo me spaccheranno anche nel cinema È arrivata da loro la proposta Da Antonio Uno dei due Che diceva Ragazzi siete secondo noi Perfetti per quella location lì E secondo noi Le luci del Giappone Sono poco viste nei videoclip Adesso vanno tutti quanti a fare Il video a Los Angeles Il video a New York Il video a Berlino e Londra Tokyo si vedeva poco Quindi abbiamo abbracciato subito Quella cosa lì E abbiamo Sì Abbiamo detto sì Che bomba Ne abbiamo fatti due di videoclip Anche il prossimo sarà Diciamo Un continuo di quella Di quella storia lì Vi è piaciuto Tokyo? Ci vivreste? Forse viverci Cioè Per un periodo tipo di sei mesi sì Ma Tutta la vita no Cioè è troppo diverso Siamo animali diversi Noi Europei Per vivere lì Perché lì veramente C'è stato Abbiamo toccato con mano Un mondo a parte proprio Quando vai in America Un pochettino ti rendi conto Che sei in un posto Che ha radici europee Sia per la lingua Sia proprio per lo stile di vita E per la cultura Mentre lì Quando siamo andati Per la prima volta in Giappone È stata Una roba spiazzante Perché ad esempio Dalle stupidate Che ne so I nomi delle strade L'indirizzo Il nome della strada Il numero civico Non esiste Tu per dare il tuo indirizzo Devi dire Io abito al decimo palazzo A sinistra del fruttivendolo 200 metri dopo Il ristorante X Cioè E i tassisti Non ti accompagnano Quando tu Se tu non hai una mappa Proprio bella precisa Non Cioè Non ti accompagno Perché loro non sanno Dove portarti È una roba stranissima Poi C'è C'è una cultura Proprio diversa Anche Il fatto che Non si può fumare Per strada Ma nei locali sì Un altro mondo Il modo di gesticolare Tipo se io Sto Indicando qualcosa Quello lì Significa come fare così Ah sì È il problema di noi italiani Che gesticoliamo tanto Pensa per noi napoletani Bisogna girare con le mani in tasca Se lo vediamo capito Senti facciamo un salto indietro Al volo al volo Di un paio d'anni soltanto Perché questo è un grande successo Dell'album Che ha venduto Tra le altre cose 200.000 coppie Credo 207.000 207.000 Quattro volte disco di platino E riascoltiamo questa canzone Dei corals di un paio di anni fa E poi torniamo in diretta Colore con il nuovo album Questo è Everytime Yeah Eccoli qua The corals Everytime Sono qui ospiti a Radio Bruno Con l'album nuovo Che si intitola You Uscito il 19 di maggio Parliamo anche di live Perché un album È bello che ci sia l'album Ma la cosa più bella Credo sia Andare su un palco E cantare Esatto Quello è il nostro habitat naturale Perché come dicevo prima Noi veniamo dal mondo del live Noi abbiamo fatto Prima di fare amici Abbiamo fatto 500 concerti in due anni Eravamo alla resident band Di un locale storico milanese Che poi purtroppo ha chiuso Perché non ci sono più le band Adesso si fa il rap Adesso il mondo vuole il rap Il rap è il nuovo pop Secondo noi E da quelle sensazioni lì Ci siamo resi conto Che proprio È quello che ci serve Come energia Per andare avanti In live Quindi Non vediamo l'ora Di tornare live Già questo assaggio Di firma copie Ci è servito tanto Senti in mezzo al pubblico Già così Sì Però dai Facciamogli sentire le canzoni Al pubblico Eh sì Allora ricordiamo una data Che è quella dell'8 luglio A Bellaria e Giamarina Per la Notte Rosa Noi la sera prima Saremo a Cesenatico Sempre per la Notte Rosa Con il Radio Bruno Estate Allora capisco Che già suonate il giorno dopo La sera prima è il mio compleanno Ma pensa te Forse vengo a festeggiare da voi Ecco bravo Sarebbe bellissimo Una sorpresa Sarebbe bellissimo Se magari quel weekend Non ci vediamo Ci vediamo in una delle prossime date La radio Bruno Estate Lo dovete promettere Noi non vediamo Noi non vediamo Noi non sapete Che per noi Radio Bruno significa Quelle sensazioni Perché poi Subito dopo il talento Noi ci siamo ritrovati A fare quelle cose estive No? E Radio Bruno Mi ricordo c'era una Bologna Una tappa a Bologna Di due anni fa Che noi arriviamo a sorpresa Ed è stata Cioè Un'emozione fantastica Ricordiamo ancora il boato del pubblico Te lo garantisco Non ce l'aspettavo Fantastico E quindi Abbiamo strappato Questa promessa in diretta Quindi non potete più Tirarvi indietro Vi aspettiamo almeno In una delle nostre date Poi se la sera Prima dell'8 di luglio Vuoi venire Ti facciamo gli auguri Sul palco Da Radio Bruno Estate Cesenatico Noi ovviamente Ti ospitiamo E vi ospitiamo Molto volentieri Vediamo Vediamo Se non sono Imballato Con le cose Del live Della data zero Un pochettino Non mi voglio prendere La responsabilità Diciamo che l'invito c'è Poi naturalmente Vedrete quelli che sono I vostri Grazie mille Dove saranno oggi I The Colors Alle 17 Alle 17 Saranno al centro commerciale I Gigli Di Campi Bisenzio A Firenze Quindi avete un bel viaggetto Adesso ci sono già Dei fan che aspettano Là per incontrarvi Per fare la foto E per farsi firmare Il vostro nuovo album Pensa che due o tre anni fa Se ci avessero detto Ci saranno i fan Ad aspettare dal mattino Invece A Firenze E invece succede E invece succede Mi hanno detto Che hanno già preparato Anche la griglia Con qualche bella bistecca Alla Fiorentina Sì 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 Grande Vi aspettano Non vediamo l'ora Va bene ragazzi Grazie per essere state qui con noi In bocca al lupo Per questo bell'album Ci sono delle canzoni davvero molto belle Noi abbiamo sentito tutto E vorremmo chiudere con questa canzone Potrebbe essere La buttiamo lì Non lo so Potrebbe essere il prossimo singolo Ma è uno dei candidati È uno dei singoli candidati Vediamo Noi ce la sentiamo Perché piace tanto Anche ai nostri fan Tantissimo Titolo della canzone Crazy Grazie a The Colors Ciao grazie Ciao Grazie a voi Questa intervista è stata offerta da Campani Group E sei sulla buona strada Radio Bruno Grazie a tutti 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 Grazie a tutti